Quando investi i tuoi soldi, i costi sono una funzione inversa del rendimento. Cosa vuol dire questo? Che più alti sono i costi che sostieni quando vai a investire e minore sarà il guadagno che ti porterai a casa. Ma se i rendimenti di qualunque investimento sono incerti per definizione, incerti significa che non sono in alcun modo garantiti, anche perché se fossero garantiti non ci sarebbe un rischio e di conseguenza non ci sarebbe neanche un rendimento. I costi invece sono certi, sono garantiti. Cosa significa questo? Sono certi perché li paghi indipendentemente da come andrai il tuo rendimento. I costi sui prodotti finanziari li paghi comunque. Sia che lo strumento prodotto finanziario vada bene, quindi diciamo ottenga un rendimento, sia che magari il mercato non vada particolarmente bene e di conseguenza questo strumento finanziario tu i costi li paghi comunque, sono certi. Dobbiamo urgentemente spezzare e sradicare quella che potrebbe essere una convinzione che magari vale per altri settori merceologici, ma non vale per il mondo degli investimenti, ovvero che più pago più qualcosa è di qualità. Nel mondo dei prodotti finanziari non è così in alcun modo, è l'esatto contrario. Quindi non è assolutamente vero come ti potrebbe essere raccontato in giro da chi guadagna vendendo prodotti molto costodi, che più costa un prodotto più renderà bene, batterà il mercato, farà cose fantastico. Non è così. Quindi prima ancora di cercare di capire cosa fare per i propri investimenti, cerchiamo di capire cosa non fare. Qualcosa da non fare di sicuro è strapagare i propri prodotti finanziari, i prodotti finanziari che si vanno a comprare e su cui si va a investire. Perché è importante ridurre i costi dei propri investimenti? È importante per massimizzare i propri guadagni nel lungo termine, per guadagnare di più. Tutti investiamo per ottenere un guadagno, questo mi sembra evidente ed è corretto da dire anche in modo così chiaro. Ogni euro che paghi per un prodotto finanziario, che magari potresti comprare in un'altra forma, con uno strumento finanziario più efficiente, ogni costo, ogni euro che versi, questa cosa qua, è un euro che non otterrai in futuro. E se magari un euro potrebbe non sembrarti tanto, in questo esempio che stiamo facendo, un euro nel corso degli anni, nel corso di una carriera da investitore, che può durare 20, 30, 40 anni, cioè un euro con l'interesse, anche un solo euro, con l'interesse composto, fa un sacco di soldi. Tu pensa quindi se ogni anno vai a regalare 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 euro in commissioni, che effetto esplosivo di compounding può avere nel corso degli anni. Questo perché infatti la riduzione dei costi sui prodotti finanziari acquistati ha un impatto positivo crescente nel corso del tempo, proprio per effetto dell'interesse composto. Di costi più bassi infatti, permettono di avere una maggiore cifra di denaro costantemente investita, e di conseguenza permetterà di ottenere dei rendimenti maggiori, perché la base di calcolo, la base imponibile, è più ricca. In questo modo si velocizzerà il processo di creazione patrimonio, di accumulo del patrimonio, senza questi drenaggi di ricchezza derivati da costi eccessivi. E anche una riduzione del costo annuale dell'1%, che non si mette l'1% che sarà mai, no, anche una riduzione di questa entità qua, può portare a differenze sostanziali del rendimento che si va a ottenere nel corso degli anni, nel corso dei decenni. Te lo dimostro subito con qualche numero. Immaginiamo due amici, Marco e Caterina, che hanno entrambi lo stesso obiettivo. Investire per risparmi e per costruirsi un futuro finanziario migliore, più solido. Entrambi decidono di investire 50.000 euro, ma scelgono due strade diverse. Marco viene contattato da un promotore finanziario che gli va a vendere un fondo di investimento a gestione attiva che costa il 3% ogni anno. Caterina invece ha fatto qualche ricerca e si è andato a comprare un ETF, quindi un fondo indicizzato, un fondo a gestione passiva, che ha un costo annuale dello 0,20%. Impotizziamo quindi che Marco e Caterina hanno investito lo stesso importo, 50.000 euro, e ipotizziamo anche che sia il fondo comprato da Marco che l'ETF comprato da Caterina investono sulla stessa asset class. Dopo 15 anni, Marco e Caterina si erano persi di vista, hanno fatto vite diverse, si rincontrano dopo 15 anni e vanno a confrontare i risultati di questi investimenti. Marco porta un po' di documenti, un po' di dati, un po' di rendicontazione bancaria e scopre che il suo investimento di 50.000 euro in 15 anni è che ha offerto un rendimento netto, quindi al netto delle commissioni del 3%, immaginiamo se si è investito su un mercato azionario adeguatamente diversificato, questo mercato ha reso il 7,5%, di questo 7,5% il 3% è andato via nel prodotto bancario per pagare tutta la rete di promotori e venditori che gli ha venduto questo fondo. Quindi il rendimento netto 4,5%. Questi 50.000 investiti in 15 anni hanno quindi ottenuto un capitale finale di più di 96.000 euro. Nel suo è soddisfatto del rendimento, non capisce che in realtà questo rendimento gli è stato offerto non tanto dal prodotto finanziario in sé, che è stato anzi un riduttore del rendimento, ma gli è stato offerto dal mercato, dal mercato finanziario all'interno del quale ha investito. E poi confronta questi risultati, questi rendimenti con quelli ottenuti da Caterina. Che ricordo, stesso importo, stessa durata, stessa asset class, quindi stesso mercato, hanno investito sia il fondo di Marco che l'ETF di Caterina all'interno dello stesso mercato. E Caterina ha visto crescere il suo capitale, inizialmente investito di 50.000 euro, sino a un capitale finale di quasi 144.000 euro, quindi quasi 100.000 euro di rendimenti su un capitale iniziale di 50.000 euro, per un rendimento aggregato di quasi il 200%. In che modo ha ottenuto questo Caterina? Senza alcuna magia da gestori finanziari, analisti finanziari di altissimo livello, semplicemente acquistando un ETF che riplicava un mercato, che ha offerto dei buoni rendimenti nei corso degli ultimi 15 anni. Questa è anche storia passata, non mi sto inventando numeri particolari. Che un mercato azionario abbia reso in media il 7,5% sta succedendo da 200 anni, è successo negli ultimi 10 anni, 20 anni, 30 anni, succederà in futuro? È altamente probabile, è un discorso di calcolo probabilistico, nessuno ha certezza, magari il mondo finisce domani e finisce così, nessuno ha problema più di pensare agli investimenti, si farà ancora così in futuro. Questi sono i rendimenti attesi, semplicemente il concetto di rendimento atteso è un concetto statistico-matematico, ed è da tenere in considerazione quando si va a investire, a prendere decisioni di investimento. Quindi cosa ha fatto Caterina? Ripeto, ha investito su un'etf che anziché deturpare il potenziale rendimento con un costo al 3%, come quello di un fondo a gestione attiva, di una gestione patrimoniale, di una polizia vita Unit Link, hanno questi costi qua, signori. Il suo etf costava solo lo 0,2%. Quindi le ha permesso di ottenere un rendimento netto, al netto dei costi, stiamo intendendo qua, non delle tasse e non dell'inflazione, che è un altro discorso ancora. Quindi rendimento netto costi, mercato offre il 7,5%, costi 0,2%, rendimento netto costi 7,3%. Nessuno dei due deve diventare il lupo di Wall Street o il maggior investitore del mondo. E' gente normale che sta investendo in un capitale normale e quei soldi gli servono per finanziare la pensione, per mandare il figlio a scuola. Quindi tutti questi soldi devono rimanere nelle tasche del risparmiatore stesso, non devono andare nelle tasche di chi vende prodotti finanziari. Sono super drastico su questo. Cioè i prodotti finanziari sono delle commodity, uno vale l'altro. Non è qua che si deve andare a ricercare del valore, perché non c'è del valore. Bisogna comprare materialmente il prodotto finanziario che ha il costo più basso e sono gli ETF. Eventualmente, dove è necessario, si può andare a ricercare valore nella consulenza, nella pianificazione, nel consiglio, che è un altro tipo di lavoro. Ma il prodotto finanziario in sé deve essere il più efficiente possibile, perché pagare il 3% su un fondo a gestione attiva e una gestione patrimoniale sono soldi buttati. Quindi, in questo esempio qua, a parità di capitale investito, a parità di tempo a disposizione per investire, a parità di rendimento atteso e a parità di rischio, Caterina si tiene in tasca quasi 50.000 euro in più. Attenzione che, se sei nella situazione di Marco, magari a metà di questo percorso da investitore, nulla è perduto. Ora vediamo cosa si può fare. Una investendo in ETF dall'inizio alla fine di questi 15 anni, l'altra investendo in fondi dall'inizio alla fine di questi 15 anni, e poi un ipotetico andamento dell'investimento prima in fondi e poi magari una dismissione per investire in ETF, magari dopo aver visto questo video. Partiamo dallo scenario meno efficiente e più costoso, quindi l'investire in fondi. Sipotizziamo che anche questi due ETF e fondi investono sullo stesso mercato, sulla stessa asset class, che questa asset class o mercato abbia reso il 7%. Quindi con questo fondo o questo portafoglio di fondi con costi al 3%, un capitale iniziale di 100.000 euro in 15 anni, che non è poco, può diventare un capitale finale di 180.000 euro. Quindi rendimento di mercato 7% costi 3%, rendimento quindi netto costi 4%. Ricordiamo anche che l'andamento in questi 15 anni non sarà quello che vediamo in questo grafico esplicativo molto semplice, ci sarà della volatilità. Come lo spiego volatilità a un profano, che i mercati andranno su e giù, dove qualche volta andranno giù. Dove andare giù vuol dire che il rendimento potrebbe essere sotto del meno 20, 25 o meno 30%. Questo è e continuerà a essere in futuro. In tanti hanno paura di parlare del rischio degli investimenti finanziari, noi non abbiamo paura perché sconosciamo come funziona. Questa è una possibilità soprattutto su tipologie di investimento che hanno un rendimento atteso elevato, azionario, tendenzialmente 7-8% di rendimento atteso, non ci si arriva a questo rendimento, mi dispiace, tipo conto deposito, ogni anno 8%, 8%, 8% non è una cedera obbligazionale, non è un conto deposito, non è una cambiale, è un investimento azionale, quello è un rendimento medio di 10-15 anni di investimento. Questo va, diciamo, una piccola precisazione perché sennò si leggono e si sentono e si vedono una marea di fesserie da questo punto di vista perché non si è in grado, non si ha, diciamo, il coraggio di esplicitare che sugli investimenti esiste un rischio. Anche perché il rendimento stesso può essere inteso come un premio a questo rischio che ci stiamo prendendo, investendo. Quindi abbiamo detto Fondo d'investimento investi 100.000, 180.000 euro dopo 15 anni. Bene, ma non benissimo. Si poteva ottenere decisamente di più. Scenario migliore invece investendo da subito puliti in ETF con un costo 0,10, 0,15, 0,20. In questo esempio qua il costo è, il costo medio è 0,20%. 100.000 euro iniziali, sempre il nostro mercato ha reso un ipotetico 7% che netto costi diventa il 6,80%. Il nostro omino dell'esempio avrà un capitale di 268.000 euro. In questo esempio qua ballano quasi 100.000 euro di guadagni e di rendimenti. Non è poco 100.000 euro. A parità di rischio stiamo dicendo qua, attenzione. Ma vediamo lo scenario ibrido. Un scenario in cui una persona per i primi 5 anni veste su dei fondi di investimento classici con costi al 3%, mentre poi una certa decide no, sta roba qua non la voglio più sentire, è uno spreco di soldi, non porta efficienza, mi darà meno rendimenti in futuro, liquido sta roba qua, saluto il mio bravo promotore finanziario e mi faccio una gestione più pulita, più efficiente, un portafoglio di ETF, magari con Planix. Qua succede quindi, questa è la linea di centro, succede che i primi 5 anni non è stata una gestione super ottimale, poi ripulendo il proprio investimento da questi costi inutili, dopo 15 anni, i primi 5 anni gestione attiva, inefficiente, 3% di costi, ultimi 10 anni di questo investimento ETF puliti, gestione passiva, lo scenario di mezzo quindi porta il nostro risparmiatore dell'esempio ad avere a fine percorso di investimento, a fine obiettivo, magari questo obiettivo dei 15 anni coincide col suo andare in pensione, dare i soldi ai figli per studiare all'estero e così via, esce fuori con 234.000 euro, che ok, non saranno i 268 di quello che è investito da subito in ETF, ma sono molti di più dei 186 di chi non ha preso delle decisioni, ha continuato a investire su prodotti evidentemente inefficienti, ma non saranno neppure i 180.000 di chi invece ha continuato a investire per tutti i 15 anni su prodotti evidentemente inefficienti, questo è un dato di fatto ampiamente statisticamente dimostrato, su cui tutti i principali esperti al mondo concordano ormai, e magari ha continuato a investire perché no vabbè non lo so, ma chissà, conosco il promotore da una vita, la banca di fiducia ce l'aveva il conto anche mio nonno e tutte queste cose qua perché le decisioni a livello locale, a livello personale, a livello familiare vengono prese anche per queste motivazioni qua, cioè non so se non avere il coraggio comunque di affrontare una discussione con un titolo della banca o con un promotore finanziario valga i 100.000 euro che si sono lasciati sul piatto, lo so, magari ditemelo voi, magari se il rapporto con lui vale più di 100.000 euro va bene così, non sono nessuno per dirvi di prendere queste decisioni qua, valutate. Quindi te l'ho promesso prima come fare per andare a verificare quanti costi si pagano sui prodotti finanziari che si hanno in portafoglio? Allora, è fondamentale identificare tutti i costi che si vanno a pagare, inclusi quelli nascosti che non si capisce bene, bisogna andare a vederli all'interno di 200 pagine di documenti e vi aiutiamo noi adesso. Ricordo infatti che questi costi possono essere delle commissioni di gestione, commissioni di sottoscrizione, commissioni di performance, costi di transazione, costi amministrativi, possono essere di vario tipo, ogni società di gestione, del risparmio li chiama un po' in modi diversi anche al fine di renderli difficilmente confrontabili. Questa è un'altra furbata che viene fatta. Ma di questo argomento qua, di quali possono essere le categorie di costo, ne parliamo in un altro video, ti metto il link in descrizione. Quindi come andare a verificare questi costi? Un modo sicuramente valido è quello di prendere confidenza un po' col sito morningstar.it morningstar.it Inserendo su questo portale il nome del fondo di investimento, o meglio ancora il codice ISIN, del fondo di investimento che magari ti sei trovato in portafoglio, l'hai rilevato un po' dalla rendicontazione che ti viene inviato da qualche estratto conto, avrai il dato sulle spese correnti, ovvero i costi di gestione del fondo stesso più qualche altro costo aggiuntivo, anche i costi di entrata. Andando poi nel dettaglio delle commissioni potrai vedere appunto come queste spese correnti sono un po' struttuate perché ad esempio in questo caso qua, su questo fondo abbiamo costi di gestione, commissioni di gestione dell'1,80% ma spese correnti del 3,90% perché le spese correnti sono andati da costi di gestione, ok, più costi di amministrazione, costi legali, costi di custodia, costi amministrativi, guardiamo le spese correnti, quindi 3,90%. Se pensavi quindi che l'esempio che ti ho fatto in precedenza con dei costi di un fondo a gestione attiva del 3% fosse tanto, c'è anche di peggio. Quindi dai, morningstar bene, non è particolarmente complesso, ti dà un po' di spunti se sai già dove andare a guardare. Qual è il problema? Che non sono presenti ad esempio i costi, non sono monitorabili, evidenziabili i costi di prodotti wrapper, prodotti contenitore come ad esempio le gestioni patrimoniali e le polizie vita unit linked. Non le trovi su morningstar queste cose qua perché non hanno un codice easy, sono dei contenitori di altri fondi di investimento dove puoi andare a vedere i costi di questi prodotti che sono spesso volentieri anche più alti di quelli dei semplici fondi di investimento li devi andare a vedere nei fogli informativi che mi auguro ti siano stati rilasciati al momento della firma di questo contratto o di contratto di mandato di gestione patrimoniale o contratto assicurativo con la polizza vita. non te li ritrovi non te li hanno consegnati vai e te li fai consegnare frughi un po' in mezzo alle carte e ti assicuro che sono esplicitate espresse questi costi qua è obbligatorio farlo e chiaramente le assicurazioni e le banche ci stanno attenti se non vengono bacchettate dai regolatori fanno del loro meglio fanno il possibile per insomma inserire questi costi in mezzo a tanti altri documenti interessanti più o meno però ti assicuro che con un po' di pazienza nel faldone di 150 pagine riesce a rilevare questi costi tendenzialmente spesso e volentieri espressi in termini percentuali ora mi auguro che tutti abbiano conseguito una licenza media quindi per capire come questa percentuale del 2-3% è sufficiente se ci investi 100.000 euro 100.000 per magari il 3% il costo di questo fondo di questa gestione di questa roba qua fanno 3.000 ok fin qui ci siamo 3.000 euro all'anno su un capitale di 100.000 euro stiamo parlando di un capitale di 10.000 miliardi o di 20 milioni 100.000 euro 3k ogni anno vanno gentilmente a sostenere la famiglia di chi ti ha proposto questo prodotto finanziario e non solo la sua ma quella di tutta la struttura che gestisce vende tutti i suoi manager e così via non so tema 3k all'anno su 100.000 euro ripeto perché se sono 200.000 sono 6k all'anno ok per ottenere un fondo di investimento perché cos'è che si sta pagando in questo modo qua anche la consulenza è tutto da vedere l'unico dato di fatto è che si sta pagando il prodotto finanziario in sé si accompagna con una consulenza finanziaria questo prodotto finanziario non lo sappiamo non è detto non è assolutamente non c'è scritto da contratto aprite il foglio informativo voi vedete che è compresa la consulenza in quel costo lì a me non mi sembra di visto costi di revisione costi legali costi amministrativi costi di genovisto costi di consulenza quindi praticamente c'è il vostro promotore finanziario se vi fa un po' di consulenza e non lo metto neanche particolarmente in dubbio ogni tanto si parla anche con loro di obiettivi ma lo fa praticamente pro bono non è compreso in tutta questa roba qua col 3% state pagando il semplice prodotto finanziario quindi ripeto l'altro modo di andare a verificare i costi è semplicemente nei documenti che avete firmato e che vi sono stati consegnati se no li potete richiedere o a chi vi è venuto il prodotto o direttamente alla casa madre quindi alla compagnia assicuratrice alla banca alla società di promotore finanziario chiedete mandate una letterina un appello quello che è vi fate inviare una rendicontazione in realtà dovete riceverla ogni anno come rendicontazioni costi oneri ai sensi di Mifid 2 non vi voglio fare due palle così su come la regolamentazione finanziaria però ogni anno entro il 30 di aprile vi deve arrivare a casa etina o nel vostro home banking una lettera con su scritto caro cliente lei cioè sui 100.000 euro che gentilmente ci ha fatto investire su questo prodotto finanziario qua lei paga ogni anno il 3% pari a 3.000 euro così uno lo vede nero su bianco e dice vabbè mi sta bene o non mi sta bene un altro modo per poter analizzare il costo di prodotti finanziari che si hanno in portafogli è Planix vediamo quindi come fare su Planix per inserire uno strumento finanziario e poter mettiamo un po' di dati a caso prendiamo questi che ci sono qua inseriamo selezionare strumento finanziario copiamo il nostro codice ISIN codice ISIN ci ha beccato il fondo di investimento quindi il codice ISIN tu metti qualunque codice ISIN ti pesca insomma i dati di questo fondo di investimento inserisci il tuo prezzo medio di carico ipotizziamo sia 7 euro metti la tua quantità ipotizziamo 10.000 pezzi di questo fondo di investimento a gestione attiva aggiungiamo lo strumento ok quindi se hai comprato con un prezzo medio di carico di 7 ne hai comprato 10.000 quantità questo è il contro valore attuale aggiungiamo lo strumento finanziario questo prodotto finanziario è stato inserito vedete qua all'interno degli strumenti finanziari che puoi dividere per banche qui ci sono un po' di etf qui questo è un conto demo una roba di prova che stiamo facendo per giocare un po' chiaramente il nostro prodotto finanziario lo troviamo di qua vedi qua ok è questo che abbiamo inserito adesso possiamo evidenziarne molto semplicemente il rendimento questo è il dettaglio dei costi di tutti gli strumenti finanziari chiaramente ordinabile per insomma dal più costoso al meno costoso molto importante andiamo a vedere sempre il costo in euro perché il costo in termini percentuali il 3,60% boh che vuol dire morte poco non vuol dire niente in sé ma qui anche tra gli investimenti più costosi come vedi qua lo puoi vedere anche in euro ok solo su questo tuo fondo di investimento qua quant'era un 60-65 mila euro il controvalore non lo vediamo qua 62 mila euro di controvalore attuale su 62 mila euro 2253 all'anno vanno via in costi qua poi ti dà il costo medio situazione generale qualche consiglio insomma e lo vedi anche di qua questa invece è la situazione generale lo screenshot così totale investito controvalore attuale asset allocation globale distribuzione per tipologia tra fondi comuni etf gestioni polis quello che è il costo medio anno di questo portafoglio qua sia in termini percentuali che in valore assoluto il disegnatore di questo esempio è quindi su un controvalore attuale 1.138.455.000 con un costo medio annuo dei suoi prodotti strumenti finanziari all'1,36% che è anche un costo interessante in realtà perché ha un sacco di etf in questo esempio qua però va a lasciare sul piatto di puro costo prodotti finanziari 15.527 euro è molto è poco dipende chiaramente dal rendimento che sta ottenendo dal servizio che sta ottenendo magari col suo promotore col suo consumente finanziario indipendente dipende da quale rischio ci sono tante altre cose da valutare il costo però è una di queste tra le più importanti e direi che te lo sto ampiamente spiegando in questa serie di video quindi ti ho fatto assaggiare un po' questa che è una piccola funzionalità tra le più importanti in realtà all'interno di Planet dove ci sono tante altre cose ma non te ne parlo oggi ed è da questa prima diagnosi questa prima analisi dei costi che puoi iniziare a capire da dove partire per ristrutturare il tuo portafoglio di investimento e poi iniziare a creare la tua personale pianificazione finanziaria e strategia di investimento ma come fare quindi per ridurre concretamente i costi dei tuoi investimenti che hai perfettamente compreso ormai che se sono troppo alti non va assolutamente bene lo vediamo nel prossimo video con questo ti saluto lascia i tuoi commenti dimmi cosa ne pensi di questi materiali di questi contenuti ciao e alla prossima ciao a tutti ciao a tutti grazie a tutti